un caro saluto da francesco samani e veniamo in questa prima parte relativa al nuovo pay del 2021 probabilmente questa sarà la prima parte perché per affrontare tutte le nuove indicazioni e per affrontare tutte le riformulazioni relative al piano educativo individualizzato servirà molto tempo sicuramente è utile questa volta per tutti i concorsi relativi alla scuola e per tutto il docente di ruolo allora ai fini del decreto legge bisogna definire innanzitutto gli alunni con disabilità essi vengono individuati sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria e secondaria e questi studenti possono essere certificati dall'articolo della legge 5 febbraio 92 numero 104 quindi vengono individuati dalla legge del 5 febbraio del 1992 e vi rimando al numero 104 sicuramente va fatto riferimento anche alla legge 104 del 1992 al decreto legislativo 66 del 2017 poi sicuramente per comprendere al meglio nuovo pay potrete dare anche un'occhiata all'articolo 12 comma 5 sempre della legge 104 del 1992 ovviamente poi vengono anche definiti i vari gruppi il GIT il gruppo per l'inclusione territoriale gruppo per l'inclusione territoriale tra l'altro se la prova preselettiva dovesse trovare che cos'è il già avete la risposta il GIT già avete la risposta il GLO il gruppo di lavoro operativo operativo per l'inclusione e vi rimando anche all'articolo 9 comma 10 del decreto legislativo 66 2017 poi vi è il GLE il gruppo di lavoro per l'inclusione gruppo di lavoro per l'inclusione e vi rimando all'articolo 9 del decreto legislativo 66 del 2017 ovviamente l'OMS l'organizzazione mondiale per la sanità un po' di ho immaginato in questa video lezione diretta che ribadire alcuni concetti alcune sigle non può fare che bene l'ICF è l'International Classification of Functioning e ancora l'ASL è l'azienda sanitaria locale l'UMV è l'unità multidisciplinare relativa o per la valutazione premesso questo possiamo andare a formulare il nuovo pay ok allora facciamolo anche in funzione di domande e risposte da chi è elaborato così cerco di aiutare contemporaneamente più persone soprattutto i docenti che devono sostenere il concorso e che si troveranno anche a dover rispondere a tali domande è elaborato ed approvato dal GLO se avete poi dei dubbi avete eseguito il video gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e sapete anche a quale articolo fa riferimento poi ad esempio l'altra domanda è di cosa tiene conto cosa contiene allora contiene l'accertamento vi è l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica vi rimando anche l'articolo 12 della legge 104 del 92 ovviamente tiene conto anche del profilo di funzionamento dello studente bisogna avere a riguardo anche le indicazioni dei fallicititatori delle barriere secondo una prospettiva questa è importante bio biologica socio sociale psicologica e potete andare a vedere anche la classificazione dell'ICF dell'OMS benissimo ovviamente se avete particolari domande potete lasciare dei commenti qui sotto proprio sotto al video potete lasciare dei commenti se il video vi sta piacendo vi è piaciuto mettete un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati e qui avete anche la possibilità di condividere il canale con i vostri colleghi il canale o il video ovviamente andiamo avanti quando viene redatto è redatto è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia e e viene aggiornato ogni volta che sopravvengono condizioni modificazioni modificazioni sopravvenute alle condizioni di funzionamento della persona a durata annuale quindi ogni anno deve essere redatto sto sto rispondendo a qualcosa di più eh a obiettivi allora la domanda può essere quali obiettivi sono presenti nel pay allora sicuramente obiettivi sia educativi e sia didattici ovviamente tiene conto anche di strumenti strumenti e strategie che devono essere adottati ai fini di creare un ambiente di apprendimento che per promuovere lo sviluppo delle facoltà degli studenti mettiamo dello studente per ora sto parlando del pay specifico dello studente con disabilità e ancora deve anche promuovere tutto questo deve essere comprensivo del soddisfacimento dei bisogni educativi individuali o comunque bisogna raggiungere questo target come target vi sono anche i bisogni educativi individuali bei questa dicitura la possiamo aggiungere da qualche parte qui perché poi mi sono molto utili per non dover ripetermi tutte le volte bisogni educativi educativi individuali ok io penso che per ora si stia inquadrando un pochettino meglio questo nuovo pay quindi che cosa succede nel passaggio di tra un ordine di scuola e un altro dalle materna alle elementari dalle elementari alle medie dalle medie alle superiori allora avete capito la domanda potrebbe essere proprio che cosa succede e io vi fornisco direttamente la risposta per non dover stare a riscrivere la domanda e quindi limare qualche cosa a livello di tempo non di contenuto perché ovviamente tutto quello che dico verbalmente voi lo potete anche seguire non per forza davanti al computer molti colleghi seguono anche questi video in auto con le cuffie in treno ovviamente se riuscite a prendere appunti o a scrivere qualcosa tanto di guadagnato per voi allora è importante definire che nel passaggio tra i gradi di istruzioni però badate bene questo forse lo sanno in pochi ve lo sottolineo anche in caso di trasferimento da una scuola ad altra anche in caso di trasferimento questo ve lo sottolineo vi deve essere una interlocuzione tra docenti ovviamente tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola scolastica di destinazione e nel caso di trasferimento deve essere ridefinito mettiamo una freccia deve essere ridefinito in base a cosa? sulla base ovviamente se vi è un trasferimento vi saranno nuove condizioni contestuali e dell'ambiente di apprendimento dell'istituzione scolastica di destinazione ok poi avete anche ovviamente il vantaggio di poter visualizzare i contenuti più importanti che vengono ovviamente scritti riscritti vengono prima nominati poi riscritti all'interno ovviamente di questi video adesso vi faccio un'altra domanda importante scusate che ogni tanto per il respiro un po' affaticato e ho solamente un po' di stanchezza e ve ne chiedo scusa cosa garantisce il pay? deve garantire il rispetto e l'adempimento delle norme delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità e e viene anche esplicitata la modalità quindi viene esplicitata la modalità di sostegno di sostegno didattico vengono espresse anche le ore di sostegno alla classe vengono definite le definizione definizione delle modalità di verifica vengono definiti i criteri di valutazione vengono definiti gli interventi di inclusione svolti dal personale docente all'interno della classe viene definita anche ancora la valutazione riprendo la parola valutazione in relazione alla programmazione individualizzata alla programmazione individualizzata individualizzata poi vengono anche definiti gli interventi relativi all'assistenza igienica di base e relativi all'assistenza igienica di base debbano debbano essere svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico anche in relazione ad altre risorse professionali in relazione anche all'autonomia polastica e vi lascio anche il decreto legislativo che è quello del 66 del 2017 ci sarebbe ancora tanto da dire io credo che abbiamo superato probabilmente i 15 forse anche 20 minuti di video probabilmente sia per me che per voi conviene a questo punto inserire il titolo inserire il titolo pay probabilmente prima parte fatemi rivedere la struttura del video nuovo pay già vi avevo anticipato che sarebbe stato che sarebbe stata comunque una spiegazione che non si poteva esaurire tutta in un video perché richiede tempo e allora se per voi va bene tanto me lo scriverete nei commenti finiamo qui e questa è la prima parte ricordo a tutti ancora una volta ringrazio insomma tutti coloro che mi sono vicini che mi stanno seguendo ancora una volta se vi è piaciuto il video siete contenti di queste risorse mettete un bel mi piace qui sotto vi potete iscrivere sotto ancora è una parte bellissima che ci consente youtube potete lasciare i vostri commenti e proprio proprio poco sotto il video c'è anche la possibilità di condividere questo materiale con i vostri colleghi anche perché i commenti la condivisione e il confronto tra di noi è certamente una risorsa da non sottovalutare con questo un caro saluto da francesco samani con i vostri commenti